Mi fa strada lei, signor Chiesirobio, mi faccia strada. Oh, il primo che incontriamo è un traditore. È un traditore, il primo. È il secondo, è il secondo. Qui siamo in diretta, Mario. Ah, sei in diretta? La diretta prevale, quindi... Quer amici, quer umigo, lei, oltre che essere un suddito latitante, mi tradì perché andò a casa di anticacca, capito? Ma io andavo per vendicarti. Siamo in live, siamo in live. Ah, vorrei fare su. Quer amici? Sì, volevo fare su. Quer amici? Signori, è arrivato dal funzionale, l'amico Cicello, capito? Eccoci, eccoci, ci siamo questi tutti. Mario, molto lieto, molto lieto. E questo è l'amico Tommy. Fai la controinformazione, guarda che c'è Serafino. 7 e 3. Aspetta, capito? Eccolo là, il birbante. Sempre con le fanciulle lui, eh? Bravo, così si fa Serafino. Ok, questo continuo a mettere la mano davanti. Fai ciao, fai ciao, querubico. Manine a tutti qua. Manine, ok.